La forza, la grinta e soprattutto il talento di Peter Zagan. Il 24enne slovacco firma l'arrivo della terza tappa della Tirreno Adriatico ad Arezzo nell'affascinante cornice di Via Ricasoli, con oltre 3.000 persone ad applaudire la vittoria del ciclista della Cannondale e la prova degli attesissimi Bennati e Nocentini che hanno chiuso rispettivamente al sesto e nono posto. Dopo i 173 chilometri della seconda giornata di corse, con la tappa da Cascina ad Arezzo, la Tirreno Adriatico è ufficialmente entrata nel vivo. Poco dopo il Via ecco una fuga con al suo interno Canola, Bohem, Thompson, Toureau e Benedetti. Al primo passaggio il gruppo è distante 5 minuti e 33 da battistrada, ma il vantaggio diminuirà a chilometro dopo chilometro. Il gruppo con la maglia azzurra Mark Cavendish controlla la corsa e al suono della campanella che indica l'ultimo giro il distacco del solo Toureau è ormai ridotto a 14 secondi. L'atleta della Europe Car viene assorbito dal gruppo che prepara la volata. In testa ci sono Contador e Bennati, con Rinaldo Nocentini più indietro. La stretta curva a sinistra, appena dopo Porta San Clemente e l'inizio dell'astricato non creano problemi e negli ultimi 100 metri viene fuori tutta la forza di Sagan che non lascia a scampo a Chiatoschi. La nuova maglia azzurra che sabato lo aveva preceduto sul traguardo delle strade bianche in piazza del Campo a Siena. Non deludono gli aretini. Bennati è il primo degli italiani e festeggia nel sesto posto. Nocentini, che è un velocista non è e in più alle prese con i postumi di una frattura alla mano, chiude al nono posto, secondo italiano. domani partenza di indicatore alle ore 9.12 con la Tirreno Adriatico che sfiderà per le vie del centro per raggiungere Città Reale.